In Italia sono state finora somministrate quasi 7 milioni di dosi di vaccino con un numero estremamente limitato di reazioni avverse gravi di portare ai nostri sistemi di sorveglianza. Insieme ad altri grandi paesi europei come la Francia, la Germania, si è deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca a scopo cautelativo. Intanto l'EMA, l'agenzia regolatoria europea, sta facendo tutte le verifiche per poter riprendere in totale sicurezza la somministrazione. Coloro che hanno ricevuto la prima dose, confidiamo, possono ricevere la seconda nei tempi previsti.